a tema cinema andiamo ad aprire fatto insieme e vediamo un po cosa c'è da qui potete capire se sono benissimo delle cine prese questa è la movie made in italy super 8 poi andremo a vedere una 1 in ogni video apposito lupi super 8 z1 questa la prima poi abbiamo la copil cobena tl4 film type battery test sempre ovviamente super 8 cobena cine zoom poi andiamo ad aprire un'altra e qui abbiamo un elmo super 8 sound 24 os xl mato cine presa fantastica ragazzi questa è una terza andiamo a prendere quest'altra che bel eo well semplicine presa super 8 ms 30 bellissimo ragazzi spettacolo poi abbiamo una minotta super 8 minotta anche questo spettacolare poi abbiamo una t 223 power zoom un classic super 8 della reflex fantastico macchinario poi abbiamo il cartone poi abbiamo nel cartone le ultime due poi abbiamo nel cartone le ultime due questa è roley super 8 sl82 fantastica e poi come ultimo abbiamo la canon cano sound 514 xls fantastica un po' più moderna come ci fa vedere come ci fa vedere come ci fa vedere ciao a tutti belli ciao a tutti belli ciao a tutti belli